Ho letto le a dir poco deliranti affermazioni di Vincenzo Carriero, direttore di Cosmopolis Media Taranto, secondo cui io starei costituendo, starei aderendo ad un gruppo consigliare di maggioranza con la consigliera Bosniaku. Dico soltanto che queste sono stronzate, sono puttanate, sono frutto della fantasia e della falsità a questo punto, per non dire disinformazione che in questa vicenda, in questo specifico frangente ha dimostrato Carriero. Io sono un consigliere comunale eletto nel movimento civico Taranto senza Ilva e tale resto da unico consigliere di Taranto senza Ilva senza aderire ad alcun altro partito, movimento o gruppo consigliare che dir si voglia. Quindi chiariamo questo. Allora io mi domando, ma forse ad aver creato questi ragionamenti nella testa di Carriero potrebbe essere stato il caldo, il sole, i 40 gradi? Potrei dire forse sì. Magari potrei anche pensare che la mattina, prima di dire queste puttanate, Carriero si è fatto un bel bicchierino un po' più pesante che gli ha fatto dare questi numeri, ma non credo che beva Carriero. Il problema di Carriero è che dice queste cose anche in pieno inverno, quando non batte il sole, quando non ci sono 40 gradi. La verità è una sola che Vincenzo Carriero, essendo come dire povero di contenuti e volendo strappare qualche così, le attenzioni dei lettori, volendo scatenare un gossip mediatico, magari creare anche invidie, inciuce, inciuci, fratture interne che poi non ci sono perché, ripeto, le sue sono solo affermazioni così deliranti, gli piace evidentemente così attirare l'attenzione. Allora, te lo dico molto chiaramente, Carriero, con gli altri puoi fare quello che vuoi, sanno difendersi come meglio credono, come meglio sanno. Sul mio conto non dire stronzate, non dire puttanate, non fare disinformazione, dicendo che io sto aderendo ad un gruppo misto, tu stai facendo disinformazione, che è il contrario dell'informazione. Allora cerca di documentarti, informati e poi, ripeto, fai brutte figure perché poi vieni completamente sputtanato dai fatti, perdi credibilità, perdi credibilità, ammesso che ne abbia, sempre ammesso che tu ne abbia credibilità dal punto di vista giornalistico. Bene, volevo dire questo perché Luigi Abbate resta un civico, eletto in un movimento civico, Taranto senza Ilva, resto da solo civico e ho aderito ad una maggioranza civica. Quando questa maggioranza è diventata civica, io ho aderito ad essa. Grazie a Dio si è staccata, mesi orsono, da questo bubone, da questo tappo del centro-sinistra e ora si lavora per il bene della città, da civici. Civis, cittadino. Ero civico, sono civico, morirò civico, insieme ad altri civici, aderendo e appartenendo ad un solo movimento, quello che io ho fondato e per il quale mi sono candidato sindaco, Taranto senza Ilva, nessun'altra adesione a movimenti, partiti, gruppi misti di maggioranza. Capito Carriero? L'hai detta un'altra stronzata. Meditate lettori, meditate.